Quasi 2 miliardi di dollari usciti dalle casse di Binance negli ultimi 7 giorni dopo l'ennesimo attacco della stack a Binance, il primo exchange dei mercati delle criptovalute. Questa volta però ragazzi è una denuncia, è una cosa molto grossa, è una cosa che non riguarda neanche solo Binance ma anche alcune criptovalute e palese. L'atteggiamento della SEC nei confronti di Binance dopo la questione di novembre, ne parliamo in questo video fallimento di FTX, è collegato e bisogna essere senza cecchi per non vedere questo collegamento. In ogni caso c'è dietro uno schema certamente ma questo tipo di denuncia può impattare in maniera estremamente importante sui mercati. Le criptovalute sono state sull'altalena, Bitcoin sta facendo pump and dump da quel giorno in maniera estremamente evidente. Guardate che cosa è successo, questo è un grafico di breve termine per farvi vedere l'ampiezza, sta facendo in pratica in maniera grossissima un pump and dump costante perché non sa che strada prendere. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, andiamo a capire che cosa è successo nella questione denuncia della SEC nei confronti di Binance, che cosa potrebbe cambiare a brevissimo nei mercati delle criptovalute, è pericoloso, sì già ve lo dico è un atteggiamento pericoloso, e secondo me non è neanche finita qui la questione e poi andiamo a vedere anche come alcune criptovalute hanno risposto a questo attacco. Ma prima di andare avanti nel video vi do una iper notizia, super notizia, ieri abbiamo presentato quella che è la reopening della Academy Trading On, ragazzi, che dopo due anni e mezzo di chiusura al pubblico riapre per solo una settimana, l'11 di giugno, chiude nuovamente i battenti, un esperimento di riapertura per vedere come ci troviamo, abbiamo preparato nuovi percorsi di formazione per gli utenti basic, per capire insomma come si possono adattare la nostra Academy Premium e ragazzi, soprattutto una serie veramente di canali dedicati, sono una settantina di canali dedicati all'interno dell'Academy che evolve in maniera abnorme e ci sono insomma una serie di servizi importanti, secondo me tra cui le mie analisi approfondite sulla ciclica, quelle che sono invece le mie operazioni personali, le strategie che stiamo portando avanti, i bot automatizzati tra cui il bot Alpa Spread che ha una PR di 63 punti percentuali essendo addirittura un market neutral, i corsi di formazione sull'analisi ciclica basic e un corso DeFi in fase di definizione che sta preparando il nostro analista Valerio e anche il suo nuovo canale che è relativo all'analisi dei protocolli, dei progetti cripto più importanti Academy che diventa così diciamo estremamente completa a 360 gradi, qui trovate la promo per il fino al 11 di giugno ma solo per i primi eventi e tra le altre cose moltissimi si sono già registrati ieri perché abbiamo fatto il lancio diciamo con il webinar quindi all'interno di questa pagina che vi lascio in descrizione trovate anche il webinar con tutta la descrizione dell'Academy, io faccio vedere tutti i canali, tutto quello che facciamo e ne parlo anche per la mission o che cosa vogliamo fare, qual è l'obiettivo dell'Academy, se è adatta a voi o non è adatta a voi ma fino all'11 giugno ragazzi ci sono anche 50 euro di sconto a vita per sempre fino a quando la membership rimane attiva per l'abbonamento trimestrale ragazzi quindi ragionateci un po' su e moltissimi di voi sono già entrati resteranno se non ero una decina di coupon ancora attivi fino all'11 di giugno, mi raccomando non vi fate scappare questa news ma soprattutto guardate quel video che è presente in questa pagina per capire se Academy fa per voi e che cosa stiamo combinando passiamo alla questione di Binance ragazzi allora Binance 1 miliardo e 8 100 mila dollari il net flow negativo negli ultimi 7 giorni causato da questo disastro Fed SEC contro Binance è una guerra che continua anche CZ ha parlato anche di questa questione con i vari tweet eccetera che sono stati pubblicati ma la sostanza non cambia, la Fed ha denunciato Binance in maniera estremamente importante ragazzi non è una cosa da niente, anzi facciamo così andiamola a vedere proprio in un articolo di Wall Street Italia così analizziamo tutti i punti che sono in questione eccola qui ragazzi, allora la causa della SEC ha affermato che Binance per anni vedete non ha avuto controlli per permanire forme di manipolazione del mercato fate attenzione perché qui farà anche riferimento la SEC a una cosa molto importante cioè una delle aziende di Binance che crea manipolazione all'interno del mercato falsificando i volumi di trading motivo ragazzi per il quale da anni e anni ne abbiamo parlato anche nel nostro canale di questa cosa cioè del fatto che perché non guardo i volumi nell'ambito trading per questo motivo qui ragazzi perché sono manipolati e questa cosa è assolutamente vera non è una cosa da niente e ne abbiamo parlato veramente per anni quindi insomma la SEC ha parlato anche di questo poi dice che gli utenti di Binance US che era una divisione di Binance creata apposta per avere le regolamentazioni corrette per gli Stati Uniti che sono più restrittive di quelle europee che potevano però ancora condurre vedete operazioni di wash trading quindi di insomma lavaggio inserendo ordini di acquisto e di vendita per fare trading di fatto con se stessi in pratica manipolando appunto quelli che sono i volumi la risposta di Binance è stata abbastanza evidente il suo team è pronto a garantire che i sistemi siano stabili inclusi per lievi depositi è che il mercato americano sostanzialmente non è di gran peso per Binance quindi le accuse si riferiscono solo al mercato americano perché la SEC non ha potere in tutto il mondo quindi teoricamente la questione dovrebbe essere circoscritta un po' un uragano catrina circoscritto solo esclusivamente all'America la reazione dei mercati è stata ampiamente negativa ragazzi questo lo abbiamo visto però non è solo la questione legata a Binance ragazzi ma anche il fatto che l'accusa riguarda per esempio alcune situazioni che alcune criptovalute importanti come XRP eccetera e anche Coinbase ecco qui ragazzi vi ho trovato il trapiletto che riguarda la Sigma Chain questa azienda praticamente che la SEC sostiene che Zao quindi CZ e Binance tercitano un controllo delle risorse dei clienti vedete attraverso piattaforme terze consentendo tra loro di mischiarle e li mandano verso un'entità posseduta e controllata da CZ chiamata Sigma Chain è la stessa entità che in pratica poi va a realizzare quelli che sono volumi truccati sull'exchange quindi Zao e Binance secondo la SEC hanno ingannato gli investitori circa il controllo del rischio dei volumi di trading corrotti mentre nascondevano attivamente la gestione di piattaforma e il trading manipolativo del suo market maker affiliato che era appunto quella azienda lì persino dove con chi erano costitivano gli investitori di criptovalute insomma queste sono tutte le accuse che vengono mandate a Binance ragazzi morale della favola la questione è molto delicata perché perché non è una cosa che riguarda Binance non è una situazione temporanea è una situazione che è diventata estremamente evidente dopo la questione FTX parliamo di questa questione qui allora novembre domenica non mi ricordo se era il 9 novembre l'11 novembre adesso io me lo ricordo bene quel giorno ma non mi ricordo la data e CZ ha fatto un'opera di manipolazione del mercato per far crashare FTX conoscendo delle informazioni e in maniera abbastanza evidente di imbrogli vari che FTX stava andando a combinare però ragazzi cosa ha toccato ha toccato dei tasselli che probabilmente ha sottovalutato tra i quali anche la partnership non so presunta vicinanza di FTX alla questione politica americana e di conseguenza anche a tutte quelle che sono le figure preeminenti nella politica e nella gestione della finanza americana tra cui anche Gensler della SEC eccetera c'è anche da dire che comunque in ogni caso già questo tipo di attività di controlli sui mercati delle crypto e sugli exchange crypto e le entità centralizzate erano in atto però si sono acuiti quindi si sono accentuati dopo la questione di novembre e non è l'unica cosa ragazzi perché Binance ha già subito un attacco fortissimo a BUSD cioè è stato privato della sua stable coin in sostanza adesso viene accusato in maniera diretta quindi ci sarà il processo sarà tutto da definire questa cosa qui e quindi è una cosa molto grave perché ragazzi perché anche alcune anche le criptovalute che sono state messe in gioco tra cui XRP Matic eccetera potrebbero essere delistate non solo da Binance ma anche da altri exchange per non incorrere a questi rischi quindi in pratica siamo davanti forse a una questione epocale cioè la PIN la crisi finale del entità centralizzate del settore delle criptovalute questo perché in sostanza ragazzi se nel momento in cui la SEC dice che alcune cripto sono security quindi non possono essere utilizzate come future eccetera allora molti exchange probabilmente dovranno delistarle sostanzialmente quelli americani quelli più grossi allora cosa succederà ragazzi molta liquidità potrebbe essere in addirittura d'arrivo verso i DEX che ancora sono estremamente impreparati da un punto di vista di piattaforma ma sarebbero accusati anche questi per esempio lo stesso Uniswap potrebbe decidere di non far tradare magari mai più Matic ragazzi ADA oppure BNB Solana stessa quindi quelle che sono state le criptovalute che la SEC ha ditato come cripto che possono essere in pratica aggredite da questa sua idea poi c'è anche il riciclaggio di denaro e tutto il resto in cui mi ha accusato Binance ragazzi però queste cose qui capite bene insomma sono tutte aperte sono delle porte aperte è stato creato un tappeto di una serie di possibili fasi negative ma nei confronti delle cripto Ethereum non è esclusa perché se la SEC si è esposta in maniera corretta nei confronti di Bitcoin dicendo non è una security è una commodity non si è esposta nello stesso modo su Ethereum quindi ancora la questione è aperta anche lì ragazzi e potremmo assistere veramente ad una escalation da questo punto di vista di regolamentazione che magari vanno a impattare in maniera considerevole proprio l'intero mercato oltre l'aggressione dei checks che è palese ed è evidente e in questo momento su Binance c'è anche la questione proprio che forse il trading di queste criptovalute che vengono definite quindi non future quindi non tradabili come derivati in sostanza e non potranno più essere fatte come forma di trading e quindi ragazzi prima situazione cioè si possono scambiare perché index potete andare comunque a comprare la criptovaluta in questione con il contratto X eccetera però quindi scambiabili sono scambiabili ma in pratica non hanno più liquidità scompare la liquidità scompare il mercato per queste criptovalute in sostanza muoviono totalmente da un punto di vista finanziario quindi in termini di scambi finanziari non possono crescere magari seguendo quelle che sono le logiche delle oscillazioni dei mercati non possono avere accesso alla liquidità istituzionale insomma ragazzi è un macello c'è questa cosa qui allora questa situazione secondo me è una scatola di fiammiferi anzi una scatola di benzene vicino un contenitore di benzene vicino a una scatola di fiammiferi se se ne accende uno succede un finimondo perché a catena poi verranno tutte queste criptovalute veramente spazzate via e sono cose enormi cioè parliamo di progetti giganteschi che dovranno trovare una soluzione allora l'alternativa secondo me più corretta è quello che appunto moltissimi di questi progetti troveranno delle soluzioni magari con la SEC si metteranno d'accordo faranno delle cose che regolamenteranno l'intero settore però ricordiamoci ragazzi che invece la questione dei checks con Binance è sicuramente totalmente aperta nonno noi ce lo aspettavamo lo avevamo parlato che dopo il fatto che a novembre Binance avesse fatto il passo falso più lungo della gamba forse aveva sottovalutato delle cose pur conversendo magari dei rischi e dei fro di paesi di RTX a quel punto però ha anche invalidato ha anche aggredito quello che è il mercato stesso delle criptovalute andandolo a minare dalle basi creando appunto questi rancori con le istituzioni americane i rancori che non sono e non finiranno qui ragazzi e gli Stati Uniti non sono un paese che molla quindi la questione secondo me verrà portata a termine e a termine è ridimensionare Binance in maniera estremamente importante questo è lo scopo allora c'è il rischio che magari Binance possa fallire o meno se le reserve i proprio reserve e tutto quello che loro dicono insomma sono vere ovviamente sempre no ragazzi perché a meno che questi non fanno cose anomale come FTX anche loro i soldi dei utenti sono in custodia su altri tipi di exchange quindi questo non è che impatta lì però il volume d'affari di Binance sarà notevolmente ridotto così come sarà notevolmente ridotta probabilmente proprio la sua entità in termini di finanza e di trading ma chi prenderà lo scettro in questo momento non si evince nulla neanche dalla questione di Binance dove se andiamo a vedere il flusso delle uscite praticamente riguarda anche Coinbase che ha avuto la stessa cosa ma è intervenuto anche il tribunale adesso a dire alla SEC di rispondere quindi è una partita ancora aperta perché Coinbase è una società americana a tutti gli effetti quotata quindi le accuse contro Coinbase simili a quelle di Binance devono essere assolutamente prese chiarite dalla SEC in maniera evidente però guardate qui meno un miliardo e otto meno o quasi un miliardo 800 mila milioni poi Celsius vabbè non ha senso poi Coinbase vedete di nuovo l'altra parte di Coinbase quindi la custody e la Coinbase normale che è TAIO e solo OKEX che assume un po' di liquidità ma spiccioli ragazzi briciole e Bitfinex che anche lui fa qualcosina però vi ripeto sono briciole come vedete i verdi rispetto a questa entità quindi tutte fuoriuscite probabilmente andate a finire nei DEX allora detto questo ragazzi cosa vi aspettate voi da questa situazione è un mercato aperto come hanno reagito i mercati male vi ripeto anche Bitcoin stesso dopo il pump and dump di ieri probabilmente ha servito a chiudere delle cose sta ritracciando nuovamente io non ricordo un atteggiamento del genere di Bitcoin negli ultimi anni ragazzi qui c'è qualcosa di strano vediamo cosa succede nei prossimi giorni siamo alla fine di giugno quel fatidico metà giugno che era cataclismatico a livello di data ciclica ne avevamo un po' parlato sembra si stia verificando questa cosa certamente siamo in fase di chiusura dei cicli semestrali di Bitcoin sicuro e avvengono di solito questi disastri queste cose così sembra proprio strano vi ricordo che l'ultimo fallimento di FTX ha causato la chiusura del ciclo annuale lo stop sembra magia questa cosa dell'analisi ciclica non è così ragazzi è solo che gli eventi ciclici sono collegati ovviamente ai fatti storici quindi niente di che potremmo ragionarci ore e ore cosa ne pensate voi è la fine del mondo cripto come lo abbiamo conosciuto e questa secondo me è la domanda che dobbiamo farci e la risposta è a mio avviso estremamente ardua ragazzi allora vi lascio di nuovo il link vi ripeto vi ribadisco il link dell'academy per chi di voi vuole entrare anche con noi a parlare di queste vicissitudini usate il coupon non lo dimenticate quando andate diciamo a testare a provare l'academy se volete acquistarla noi ci rivediamo nel prossimo video e incrociamo le dita vediamo se Bitcoin recupera un pochino ciao ragazzi grazie a tutti